Il Sistema Sanitario Nazionale, nato 40 anni fa, aveva l'obiettivo di garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini. Oggi spesso non è così, perché le differenze territoriali impediscono ai cittadini di curarsi là dove vivono. Per questo è necessario modificare l'articolo 117 della Costituzione e inserire il diritto alla salute e alla cura dell'individuo. Il Partito Democratico ci crede ed è per questo che appoggia la campagna di cittadinanza attiva.